Questa mattina presso l'auditorium comunale amabile di Sant'Arsenio si è tenuta la giornata dal tema Coltiviamo la memoria. L'incondro hanno preso parte, oltre al sindaco del comune di Sant'Arsenio, Nicola Pica, Miriana Tramontina, testimone e profuga delegata per Salerno dell'Associazione Venezia Giulia e Dalmazia, oltre a Pierluigi Campagnano, presidente della comunità ebraica di Napoli, e a Giuseppe Aromando, presidente dell'Associazione Culturale Agape, che insieme all'amministrazione comunale hanno voluto fortemente questa giornata. All'incontro hanno partecipato numerosi studenti di ogni ordine e grado. La giornata si è potuta organizzare grazie anche alla collaborazione della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea e alla delegazione salernitana Venezia Giulia e Dalmazia. Insomma è una giornata che vuole essere un contributo alla conoscenza degli eventi connessi alla giornata della memoria e del ricordo. Le due ricorrenze infatti sono state istituite dal Parlamento italiano. Il giorno della memoria, il ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, mentre il giorno del ricordo in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo Giuliano Dalmata e delle vicende del confine orientale, concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati. Insomma, una giornata importante, una grande opportunità per i giovani del territorio affinché attraverso questo tipo di incontri possano crearsi, far nascere loro una coscienza che sicuramente possa poi scacciare dal loro animo e dalla loro persona ogni forma di intolleranza sociale, culturale, politica e religiosa.